vediamo come impostare dei movimenti per i personaggi su minecraft pocket edition di windows 10 in pratica allora la prima cosa da fare è darsi un orientamento questa freccia indica il mio orientamento quindi quando io andrò in avanti rispetto all'asse z come potete vedere dalle coordinate quando vado in avanti l'asse z aumenta quando vado all'indietro l'asse z diminuisce e sempre rispetto a questa freccia quando vado a destra invece diminuirà l'asse x vedete 1 0 meno 1 quando andrò a sinistra invece l'asse x aumenterà quindi una volta stabilito bene qual è l'orientamento che ci si assegna possiamo poi fare in modo di costruire un percorso e impostare poi vedremo con i blocchi comando il movimento quindi schiacciando questo pulsante viene creato nel mio caso un maialino ma potrebbe essere anche un abitante del villaggio la prima cosa che ho fatto è stata dare un nome a questo maialino si chiama pig e gli ho assegnato questo percorso anche sempre in questo caso il mio percorso è un rettangolo quindi già qui si possono fare diversi discorsi sull'orientamento quindi geografia sul perimetro di una figura geometrica nel questo caso il rettangolo e sua vabbè animali differenze tra animali e abitanti insomma ci sono tante tante cose che si possono trattare allora andiamo a vedere tutto è stato costruito grazie a dei blocchi comando e a dei blocchi normali però che vengono trattati tramite i blocchi di comando come selettori di movimento mi spiego meglio questo è il blocco di oro ok allora il primo blocco comando nel primo ho impostato la nascita del maialino quindi mi fa nascere un maialino alla coordinata 568 497 questo per comodità che si chiama pig dopo ho impostato il primo blocco che riguarda proprio il blocco di oro in pratica il maialino nel mio caso l'ho nominato pig anche nell'azione da eseguire ma potrebbe essere anche un maialino generico che cosa fa deve controllare due blocchetti sotto di lui come vedete la coordinata generica y in base a dove si trova il maialino controllerà due blocchetti sotto se c'è un blocco d'oro che cosa succederà il maialino di nome pig in questo caso invece il nome è importante di nome pig si muoverà in avanti in base all'orientamento di cui parlavo all'inizio di 0.1 sull'asse z quindi farà un piccolo passettino in avanti ho messo 0.1 all'inizio avevo messo un altrimenti il movimento è troppo veloce invece con 0.1 il movimento è più lento quindi in questo caso è il blocchetto di oro che indica al maialino di andare in avanti qui invece troveremo lo stesso comando solo la differenza viene fatta dal blocchetto di diamante che in pratica la porterà in avanti in questo caso però sull'asse delle x ricordandomi sull'asse delle x quindi quando incontrerò il diamante andrò verso sinistra perché è verso sinistra che l'asse x aumenta stessa cosa qui solo che il blocco è quello di smeraldo quindi quando il maialino vede che due blocchetti sotto di lui c'è un blocco di smeraldo allora invece di andare in avanti come nel blocchetto d'oro andrà indietro di meno 0.1 sull'asse z l'ultimo quando il maialino trova due blocchetti sotto di lui quello di ferro che cosa succederà andrà diciamo indietro ma andrà verso destra perché si sta muovendo sull'asse x di meno 0.1 ripeto 0.1 perché ho fatto diversi esperimenti ho visto che è quello che riduce molto la velocità quindi ripetendo tutto qui ho fatto un piccolo schemetto questo blocco si trova nell'inventario tra i blocchi di terra colta smaltata eccolo qui con le freccette ci da ci diamo questo orientamento magari ce lo appuntiamo perché magari in futuro potrebbe potremmo non utilizzare questo schema per diverso tempo quindi magari ce ce lo appuntiamo da qualche parte comunque quando il maialino troverà sotto di sé il blocco due blocchetti sotto di sé il blocchetto di oro andrà quello che per noi in avanti quando troverà il blocchetto di smeraldo due blocchetti sotto di lui andrà quello che è per noi stato impostato indietro quando troverà il blocchetto di ferro andrà alla nostra destra sempre impostata sull'orientamento che ci siamo assegnati all'inizio e invece con quello di diamante andrà verso sinistra ci tengo a dire questa cosa perché magari qualcuno potrebbe provare a impostare il blocchetto di oro per andare in avanti e magari non ha tenuto conto che è orientato in modo diverso rispetto a me nel video e dice ma non funziona oppure funziona in modo diverso e questo può succedere sempre perché bisogna darci un orientamento rispetto alle coordinate che troviamo qui in alto in minecraft una volta che ci siamo dati questo orientamento nulla ci vieta di utilizzare i blocchi che più ci piacciono da tenere a meno due e farlo far camminare qualsiasi entità ripeto il discorso è abbastanza articolato abbastanza complesso e per la scuola primaria magari può essere un po difficile farlo fare proprio ai bambini però ad esempio nelle mie intenzioni una volta che ho impostato questo tipo di orientamento con questi tipi di blocchetto far fare poi ai bambini l'intero percorso dei tre maialini che partono dalla casa della mamma che è abbastanza lontana si trova qui e farli arrivare a ognuno nelle proprie casette e anche qui ci sarà un discorso abbastanza difficile perché poi ogni maialino dovrà fermarsi nella casetta giusta invece per i ragazzi già di scuola superiore si può fare si può veramente fare un discorso più completo e fargli fare anche attività più complesse un'ultima cosa che forse già avete notato io ho messo intorno al maialino il blocco barriera questo qui barriera eccolo qua si vede solo quando il mio personaggio ce l'ha tra le mani ok perché perché dopo un po il essendo solo un blocchetto sotto il maialino cade dopo un po cade dal percorso e anche perché come vedete anche qui non è che sta dritto dritto un'altra cosa bruttina che nella versione java si può risolvere facilmente ma nella bedrock o pocket edition come dirsi voglia del windows 10 quella che sto usando io in pratica non riesco ancora manipolare l'intelligenza artificiale delle entità in pratica tutte le entità di minecraft hanno un'intelligenza artificiale questa intelligenza può avere due valori vera quindi gli animali si muovono e camminano nella direzione giusta anche con la testa camminano all'indietro come il mio maialino che insomma sembra quasi vittima di tutti gli eventi del blocco comandi sotto e oppure nella posizione falso quando l'intelligenza artificiale impostato su posizione falso in pratica le entità è come se perdessero la volontà delle loro azioni quindi oltre a essere vittima di questo movimento dovuto al blocco dei comandi seguirebbero anche con la testa quello che è il movimento del loro corpo al momento non sono ancora riuscito a farlo spero insomma che magari qualcun altro ci riesce si risolvi anche questo piccolo questa piccola imperfezione invece nella versione java lo si può fare in modo molto semplice